Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale A coltella l'ex finanzata e l'amico di lei poi si lancia dal balcone e muore Tragedia della follia a Senigallia Presentato il nuovo piano di riqualificazione del quartiere Sant'Orso a Fano L'ordine dei medici di Pesaro deciderà questa sera i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'omeopata che curò il bimbo di 7 anni, morto poi per un otite Più di un milione e mezzo di euro dal ministero per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Fano I miei primi 40 giorni il sindaco di Colli al Metauro Aguzzi traccia un primo bilancio della sua attività A Marotta le prime strisce pedonali colorate d'Italia e spopolano sul web Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti, non sopportava l'idea che la sua relazione con la ex ragazza finisse in quel modo Per questo ieri intorno a mezzanotte un 21enne di Senigallia ha accoltellato la sua ex fidanzata e un amico di lei Entrambi coitanei dell'aggressore e si è lanciato nel vuoto Il giovane è morto sul colpo, l'altro è ancora ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita Mentre la ragazza è stata dimessa dopo le cure È accaduto in un condominio di quattro piani in via Podesti a Senigallia dove la giovane vive con i genitori Il 21enne dopo l'aggressione è salito sulla terrazza condominiale e si è lanciato cadere nel vuoto Secondo fonti vicine alla famiglia, da alcune settimane dopo la fine di questa relazione La giovane senigalliese era vittima di atti ripetuti e molesti Appostamenti sotto casa, sms e telefonate Da due giorni la ragazza non usciva più di casa temendo potesse accaderle qualcosa di grave Il mese precedente aveva sporto denuncia presso il commissariato di polizia Ieri sera, secondo una prima ricostruzione, sarebbe andato su tutte le furie il suo ex fidanzato Vedendo un amico della ragazza salire a casa di lei, appunto, come dicevamo, in via Podesti Per questo sarebbe piombato nell'appartamento e dopo aver forzato la porta di casa Li avrebbe aggrediti a coltellate Nel corso della colluttazione la ragazza ha riportato ferite alla spalla e all'orecchio dovute a tre fendenti Mentre l'amico, di 26 anni, è in prognosi riservata per un pneumotorace provocato da almeno una coltellata Sulla vicenda indagano i carabinieri, non vi sarebbero dubbi sui motivi del gesto Che sono esclusivamente di carattere sentimentale Il PM ha disposto l'autopsia sul cadavere del ragazzo che ha tentato appunto di uccidere la sua ex fidanzata e l'amico E adesso cambiamo pagina, lasciamo la cronaca A Sant'Orso è stato presentato un progetto dal titolo A misura di pedone Gli attivetti principali che abbiamo pensato per ridurre la velocità e per mettere in sicurezza il quartiere Sono di tre tipi in particolare Prima di tutto abbiamo creato degli elementi, diciamo, dissuasori di velocità Attraversamenti rialzati Sia nella parte di via Santo Eusebio, proprio nella parte centrale In modo da creare una specie di piazzetta che comunque modere la velocità E crea un percorso sicuro per l'attraversamento E sia anche nella parte di ingresso al parcheggio Quindi questo è il primo elemento di moderazione della velocità Abbiamo pensato anche di creare delle mini rotatorie Specialmente nell'area finale di via Santo Eusebio Proprio per meglio regolamentare quell'area che attualmente non è regolamentata Quindi in questo modo ci sarà proprio la chiara disposizione e disciplina della circolazione E creeremo poi una serie di percorsi protetti sia per ciclisti che per pedoni Che avranno un percorso ben evidenziato Che li porterà dal centro alle zone della scuola, alle zone del centro commerciale Come diceva il professor Tonucci, progenitore della città dei bambini Prima i pedoni, poi le biciclette e poi le auto Bene, partendo dai primi, i bambini Cittadini non di domani ma protagonisti dell'oggi Attraverso anche ad un habitat adatto alla loro condizione Che gli consenta di non essere loro ad adattarsi alla città Ma la città ad essere a loro dimensione La prima parte è questa, quella della risistemazione della via principale Con i parcheggi e con la messa in sicurezza di percorsi per pedoni e ciclisti Pensando anche ai ragazzi quando vanno a scuola Che possono andarci in sicurezza da soli Ma soprattutto è una risposta a un quartiere importante come quello di Sant'Orso Che lo scorso anno avevamo lasciato un po' indietro Invece quest'anno c'è un intervento significativo, importante E al termine si vedranno i risultati e ci sarà la differenza tra il primo e il dopo A Fano su questo piano si sta imboccando una direzione ben precisa Modificando anche la morfologia della città Come sta accadendo nel quartiere di Sant'Orso Dopo il primo progetto Io vado a scuola da solo Che creava le condizioni di un percorso casa-scuola in sicurezza Ora anche la circolazione è ad essere ridisegnata L'obiettivo qual è? Misura di bambino vuol dire che se una zona, uno spazio pubblico è adatto a un bambino È più vivibile anche per altre persone, le persone anziane ma chiunque si muove a piedi e in bicicletta E quindi l'obiettivo è quello di agevolare e di dare le stesse opportunità anche ai pedoni ciclisti di muoversi in sicurezza Questa sera alle 20.30 il Consiglio disciplinare dell'Ordine dei Medici di Pesaro Si riunisce in Galleria Roma per decidere i provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del dottor Massimiliano Mecozzi L'omeopata indagato dalla Procura di Urbino per omicidio colposo per la morte del piccolo Francesco Bonifazi di 7 anni e di Cagli Il piccolo Francesco era deceduto il 27 maggio scorso dopo tre giorni di agonia al Salesi di Ancona Per una encefalita causata dalla conseguenza di un'otite curata da Mecozzi solo con rimedi omeopatici Il medico è stato convocato presso l'Ordine dove probabilmente si presenterà con il suo legale l'Avvocato Carella Buone notizie per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Fano Il Ministero dell'Interno finanzierà l'opera con 1.600.000 euro Allora un importante traguardo quello della caserma dei Vigili del Fuoco che se ne era parlato Un atto concreto finalmente è arrivato Sì dopo l'approvazione dell'autorizzazione a firmare il protocollo con il Ministero, i Vigili del Fuoco e il demanio Ora arriva la cosa più importante, la letta del Ministero dell'Interno dove c'è l'autorizzazione Alla disponibilità delle risorse di 1.600.000 euro per la realizzazione della caserma Ovviamente è una prima stima in base al progetto preliminare che noi avevamo già presentato E che aveva avuto l'autorizzazione E autorizza il Comune di Fano come stazione appaltante per poter finire la progettazione e affidare i lavori Questo è un bellissimo risultato che conferma che Fano c'è E mi piace sottolineare che questo lavoro che il Sindaco ha fatto col Ministero Ma soprattutto il ruolo, come avevo annunciato, che Fano doveva recuperare in un ruolo non solo locale Ma anche regionale e nazionale E questa ne è un'ulteriore conferma Perché riusciamo ad avere un finanziamento e non dalle risorse dell'organizzazione comunale Un finanziamento statale per questa realizzazione Che la città, ma soprattutto i Vigili del Fuoco, da anni attendono Tanti impegni, tante promesse mai realizzate Io, come è mia abitudine, amo annunciare poco Ma quando dico una cosa, poi la faccio veramente E oggi, con questa comunicazione, con la lettera che abbiamo ricevuto, ne è un'ulteriore conferma A Colli al Metauro, Stefano Guzzi ha tracciato questa mattina un bilancio dei suoi primi 40 giorni da Sindaco Allora, ieri c'è stato un importante Consiglio Comunale Approvate alcune prossime iniziative, oltre al regressato di bilancio Sì, un atto indubbiamente molto importante Del resto il bilancio di previsione era stato redatto dal Commissario Nella fase che non c'era né Sindaco né Consiglio Comunale Quindi un bilancio che pensava molto all'ordinaria amministrazione, chiamiamola così Senza scelte strategiche Quindi noi, all'interno di questo bilancio, siamo riusciti a ritrovare Alcune risorse per qualche lavoro che riteniamo urgente e prioritario Come tutta la nuova illuminazione a Serongarina, come l'ampliamento della Scuola Lugli Come la realizzazione della pista polivalente a Montemaggiore L'asfaltatura di alcune strade Alcuni lavori qui in centro storico a Saltara Dove c'è una via inibita da tempo a causa un crollo di una grotta E sarà ripristinata tutta la viabilità e la viabilità di questa zona Oltre a questo abbiamo cercato anche di riorganizzare, di rafforzare alcuni servizi interni Nel senso che il settore dei lavori pubblici ad esempio ha bisogno di nuove figure Lì abbiamo previsto la possibilità di assumere un nuovo tecnico In modo che si possano affiancare le attuali persone Così come nel settore degli affari generali interni al comune Ad esempio anche una persona che seguirà direttamente il sindaco Perché la nomina del presidente del consiglio comunale è una nomina importante? La nuova presidente del consiglio, il primo presidente del consiglio di Colle al Metauro Sarà Maria Giovanna Cenerelli che era la presidente del comitato Montemaggiore Resiste Come dire? Un salto culturale, un salto di qualità, una visione innovativa che guarda davanti Dalle divisioni alle unioni Non rinnega Maria Giovanna le sue scelte contrarie all'unificazione dei tre comuni Prende atto che oggi il comune c'è e gioca un ruolo da protagonista per amministrarlo al meglio per i propri cittadini Ecco anche le nomine dei prosindici, importanti funzioni, quelle di collegamento tra il territorio e l'amministrazione Sono state fatte assieme ai loro vice Indubbiamente sì, anche su questo la scelta che abbiamo voluto fare come maggioranza per i tre prosindici È quella proprio di ampliare la base di confronto verso la cittadinanza La cosiddetta società civile, infatti per Saltara sarà un ex insegnante, l'Anna Cecchi, molto conosciuta, molto stimata in questo territorio Per Serongarina, Tavernelle sarà Barimiesi Marco, una figura ugualmente conosciuta anche nell'ambito parrocchiale e associativo Per quel che riguarda Montemaggiore e Villanova sarà Mattia Guidi, l'attuale presidente del circolo Acli Un ragazzo giovane, anche lì conosciuto, stimato Tutte e tre queste persone non hanno avuto in passato ruoli politici, non appartengono a parti politici, non militano in partiti Come dire, non abbiamo inserito dalla finestra la politica uscita dalla porta o viceversa Ma abbiamo ampliato alla partecipazione complessiva dei cittadini l'attività di governo Oggi si è ricordato anche a Pesaro Giuseppe, detto Peppe, Montana Commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Palermo Assassinato 32 anni fa dalla mafia La cerimonia commemorativa è iniziata con una santa messa celebrata da Don Silvano, penitenziere del Duomo di Pesaro A Marotta, Marotta prima in Italia ad avere le strisce pedonali colorate E noi siamo andati a vederle Come si fa a far sentire i piccoli cittadini di una comunità parte integrante e attiva del tessuto cittadino Semplice, gli si dà il modo di esprimersi, gli si ascolta e se possibile si mettono in pratica le loro progettualità Frutto del loro animo puro ed incondizionato dalle convenzioni e dalla burocrazia E' quanto accaduto a Marotta nel comune di Mondolfo dove sono apparse nei giorni scorsi delle strisce pedonali molto particolari Simili ad un codice a barre ma coloratissimo Il giovanissimo primo cittadino Nicola Barbieri, figlio dei suoi tempi, ha subito reso pubblico l'evento sui social E la cosa ha fatto il giro di Mezzitalia Sì, è una bella cosa, una bella iniziativa che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale Le strisce pedonali colorate non ci sono in Italia ma ci sono in altri paesi all'estero Abbiamo ripreso questa idea che è molto bella, che ci avevano richiesto i bambini delle scuole L'abbiamo portata avanti, piace a tutti, cittadini e turisti, quindi siamo contenti A Madrid, in Spagna, questo tipo di espressione artistica non è una novità Ma ci ha pensato l'artista bulgaro Cristo Guelo, quello della passeggiata sul lago, tanto per intenderci A inventare il Fanny Cross, a Marotta invece ci hanno pensato i bambini Abbiamo chiesto appunto ai bambini come vorrebbero la loro città più bella, più colorata Sono emerse tantissime proposte perché i bambini veramente hanno più idee, più fantasia di noi E tra queste c'erano le strisce pedonali ma hanno proposto anche una riqualificazione delle aree verdi Anche più spazi per giocare, per le attività sportive Quindi diciamo che vogliamo veramente come amministrazione ascoltarli e anche farci conoscere di più come amministrazione comunale Ci sono anche testimonianze tangibili della presenza dei bambini con delle mattonelle colorate, che cosa sono? Sì, questa è opera dei volontari dell'associazione Chiaroscuro, che ha già iniziato quest'opera al molo di riqualificazione del lungomare E la notte dei bambini è nata questa idea, di far provare e sperimentare proprio ai bambini stessi l'idea del mosaico Quindi hanno iniziato e abbiamo pensato di porlo qui proprio sulla piazza Si chiama Ad Pugnan Parati ed è un progetto finalizzato alla rivocazione delle grandi battaglie dell'antichità Laddove si sono realmente svolte A Sossoferrato, questo fine settimana, si terrà la battaglia delle nazioni A cui parteciperà anche la colonia Giulia Fanestris Colonia Giulia Fanestris parteciperà a un bel evento questo fine settimana Sì, un evento che si terrà a Sossoferrato nell'area archeologica Un intervento che ci vedrà impegnati nel progetto Ad Pugnan Parati Un progetto ideato dal dottor Gioal Canestrelli di Verona e dal dottor Giuseppe Cascarino di Roma Che vede impegnati numerosi gruppi di rievocazione storica di tutta Italia Da Tarato da Trieste arriveranno questi gruppi, oltre che altri parti d'Italia Per animare e far rievocare una delle battaglie più importanti del III secolo a.C. La battaglia del Sentino Una battaglia che ha visto una coalizione di popoli italici Tra cui i Sanniti, gli Umbri, i Celti, gli Etruschi e i Greci contro Roma Oltre a voi, chi ci sarà in questa rievocazione? Ci sono già alcuni amici di Padova Il gruppo dei Cenomini sono gruppo di rievocazione celtica E poi i gruppi romani, come ho detto ci sarà la decima legge di Roma E poi i gruppi di rievocazione di Taranto Che faranno più specificatamente i Greci Oppure del centro-sud che faranno i Sanniti Quando sarà questo evento? A che ora e dove? Chi vuol venire a vederlo? Dunque l'evento sarà da sabato 29 luglio dalle ore 16 Per il restante tempo che ci porterà alla battaglia Di domenica pomeriggio alle ore 17 Ci sarà uno scontro di 100 rivocatori romani E 100 rivocatori della coalizione italica Che appunto alle ore 17 faranno rivivere Quello che è stato la battaglia del Sentino Una cosa che volevo ricordare È che questo progetto a pugni apparati Tratta delle battaglie realmente combattute Nel territorio italico in epoca antica C'è una notizia che arriva da Montecchio C'è stata una rapina in un centro commerciale Hanno atteso che uscissero quasi tutti i clienti E poi a pochi minuti dalla chiusura Ieri sera intorno alle 23 Due banditi a volto coperto Sono entrati nel centro scommesse di Montecchio Nel Pesarese in via 21 gennaio E minacciando il gestore che è stato spinto a terra E sotto la minaccia dell'arma Ha dovuto indicare dove si trovava la cassaforte In quel momento probabilmente aperta Per le operazioni di fine giornata I malviventi dopo aver riempito le tasche Con circa 10.000 euro Tutti in contanti sono fuggiti a piedi Per le stradine del paese Dileguandosi nel buio Lunedì prossimo invece Alla BCC Arena di Fano Per l'assegna Teatro Sotto le Stelle Tornano le commedie dialettali Ad esibirsi questa volta La compagnia Il Buffo Di Lucrezia di Cartoceto Con IR E non c'è più rimedi Ovvero non c'è più rimedio Per la regia di Andrea Boni Una compagnia autoctona possiamo dire A pochi chilometri da qui Giocate quasi in casa Che cosa portate alla BCC Arena? Noi portiamo una commedia Speriamo molto divertente Ambientata in uno studio medico Quindi dottori Ma dottori non tanto normali Un po' pazzarelli come siamo tutti noi Succederà di tutto Tranne che visitare i pazienti Che anche loro A loro volta sono molto impazienti Di essere visitati Ma anche impazienti Di combinare tanti tanti casini Ecco loro sono una piccola rappresentanza Degli attori diciamo Ma ne combinerete E se ne vedranno delle belle? Eh se ne vedranno delle belle Sì 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 Ci divertiremo Ci divertiremo noi E speriamo di far divertire Anche gli altri Io sarò l'infermiera Che accoglie i pazienti E accoglie anche i dottori Diciamo Accoglie molto bene i dottori Un'infermiera un po' particolare Diciamo Diciamo Non svegliamo troppo Non svegliamo troppo Non possiamo svelare Ho capito Questi pazienti saranno accompagnati In un percorso di varia natura Sì Io sarò una vecchietta Sorda E un po' Strana E quindi speriamo di farvi divertire Lei è dottore o paziente? No io sono il paziente Come ha detto lei Accoglie solo i dottori Ma i pazienti rimangono a sedere Io sarò dove c'è la vecchietta Ci sarà il vecchietto Mi sembra giusto E sarò il vecchietto Tipo un giocatore d'azzardo No d'azzardo Diciamo Ha a che fare molto con il gratta e vinci Non vince mai Gratta solo Gratta sì C'è rimasto solo quello C'è rimasto Va bene Allora Quando vi si viene a vedere? Allora noi siamo qui il 31 di luglio Il 31 di luglio Venite numerosi Noi un'altra volta saremo qua Come è il titolo della commedia In C'è più rimedi un'altra volta Noi saremo qui un'altra volta Va bene Insomma Buon Come si dice? Buon Buona risata Buona risata Allora il TG finisce qui Dopo di noi c'è Box E poi in cucina con lo chef Grazie per averci seguito L'informazione torna domani mattina Alle 7.30 in diretta Con la rassegna stampa Occhio giornale Arrivederci Sincronica E' per la rassegna stampa A la rassegna stampa E' per la rassegna stampa Non C'è passat A la rassegna stampa A la rassegna stampa Grazie a tutti.